Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Merce rubata in casa per 20.000 euro, 4 denunce nel Pesarese Finiti i lavori, la sorpresa, il sottopasso si è abbassato di 20 cm Inaugurata la nuova ala per inumazioni al cimitero di Rosciano L'ospedale di Fano deve rimanere aperto e mantenere i servizi Dopo il telegiornale ne parleremo in studio con il vice presidente del Consiglio delle Marche Renato Claudio Minardi Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Sul canale 17 c'è l'informazione di Fano TV E allora cominciamo subito dalla cronaca Andiamo a Pesaro nella sala delle conferenze della compagnia Carabinieri Per parlarvi di due arresti Organizzano un droga party ma i carabinieri di Tavuglia in collaborazione con i colleghi di Pesaro Li scoprono e si presentano alla porta Perquisiscono la casa che risulta essere di uno del gruppetto da poco residente nel paese Ed invece di scovare lo stupefacente salta fuori parte del bottino di un furto avvenuto pochi giorni prima Sempre a Tavuglia nella scuola media Giovanni Pascoli E dalle tasche di uno di loro salta fuori la cospicua somma di 250 euro Risultata poi essere stata sottratta alla famiglia Altre perquisizioni nelle abitazioni nei garage dei quattro Già note le forze dell'ordine E fermati pochi giorni prima da una pottuglia del nucleo radiomobile di Pesaro E trovati in possesso di Ascish Permettono ai carabinieri di recuperare totalmente anche la rifurtiva di un altro furto Sempre commesso nella stessa notte tra il 29 e il 30 gennaio Ai danni questa volta di un'autofficina Set completi di chiavi inglesi Uno strumento del valore di oltre 5.000 euro per la diagnostica delle auto Utensili vari e due strumenti musicali E ben quattro computer provenienti dalla scuola Per un tesoretto di circa 20.000 euro Ma soprattutto il valore è quello simbolico E il valore che poi avrebbe il danno che avrebbe prodotto ancora di più Sia all'artigiano e quindi al meccanico e sia alla scuola stessa La scuola era stata già paralizzata nelle attività scolastiche Perché con i quattro computer trafugati Avevano dovuto interrompere alcune tipi di operazioni Un'operazione Lampo che ha sorpreso gli stessi proprietari della merce rubata Che hanno voluto ringraziare personalmente le forze dell'ordine per la rapidità E che ha evitato anche loro di dover riacquistare le attrezzature Con un notevole sborso di denaro La scuola ha problemi di bilancio Quindi acquistare queste cose come diceva il capitano prima Per noi sarebbe stato molto difficile quest'anno Quindi 150 ragazzi avevano così già in parte rinunciato Alla possibilità di imparare con le nuove tecnologie Perché i computer a noi servono proprio per trasmettere ai ragazzi I contenuti delle nuove tecnologie Grazie alla loro tempestività mi hanno ritrovato questi computer Quindi io non devo affrontare queste spese extra Che purtroppo non avevo bisogno in questo momento Perché l'economia è quella che è Quindi un grazie di cuore alle forze dell'ordine Al marsciallo Mazzetti perché sono stato molto veloci, molto rapidi Ora i quattro, un italiano, due albanesi e uno slavo Tutti già noti alle forze dell'ordine di età compresa tra i 19 e i 21 anni Residenti da tempo sul territorio Sono stati denunciati per ricettazione Non essendoci più la fragranza di reato E lo slavo anche per il furto dei 250 euro ai danni del padre Ora ai carabinieri di Tavuglia Coordinati dal comandante, il maresciallo Giuseppe Mazzetti Spetta il compito, con le indagini ancora in corso Di ricucire i legami e capire come la refurtiva sia arrivata al quartetto Se sono stati parte attiva nei furti E quali canali hanno attivato per poter eventualmente smerciare la refurtiva E adesso invece andiamo a Ponte Sasso di Fano Perché ci hanno chiamato alcuni operatori turistici Per mostrarci il risultato di una serie di interventi Fatti in un sottoferrovia Che non è, a dire il vero, un sottopasso ufficiale Vero e proprio Però è spesso utilizzato, soprattutto d'estate, anche dai pedoni E il risultato è che si è abbassato di 20 centimetri Non si contano le volte che questo punto del rio Crinaccio Sia stato sotto i riflettori per diversi motivi Tutti ricorderanno le immagini dei nostri servizi Delle devastazioni che le bombe d'acqua improvvise E le conseguenze esondazioni del canale hanno provocato nella zona Garage allagati, spiagge cancellate Quando non è allagato però Questo sottoferrovia, creato per il decorso del canale Era anche utilizzato, vista la sua agevole altezza Come passaggio dalle centinaia di turisti e residenti estivi del luogo Per accedere alle spiagge della zona Visto anche il grande parcheggio esistente a monte Senza dover fare a piedi diverse centinaia di metri sotto il sole cocente Per utilizzare il sottopasso più a sud Ora però le cose si complicano Alcuni residenti ed operatori balneari ci hanno contattato Fortemente preoccupati in vista della prossima stagione Sì perché dopo che sono state tolte le impalcatule Dalla sottovia Terminati lavori che Rete Ferroviaria Italiana ha effettuato Per il consolidamento della struttura e la sua manutenzione Ci si è accorti che la luce del passaggio si è notevolmente ridotta Impedendo così un agevole transito dei pedoni Ma il ponte l'hanno abbassato? L'hanno abbassato? Per me hanno fatto un malissimo lavoro Siamo preoccupati sì perché noi abbiamo un'attività qua sul mare Qua ci sono 300 appartamenti che di agosto sono pieni di turisti E quindi voi avete paura che quest'anno vada mai la struttura? Penso di sì Non è un buon servizio che diamo ai clienti Gli altri anni era più alto però? Era più alto, bene o male ci si passava C'era sempre il problema che non lo vengono mai a pulire presto Perché si fa guardi come adesso, ha piovuto Al comune avete fatto sapere qualcosa? Ma io sono tornato adesso perché ho lavorato fuori, sono andato in America Per cui non ci sono stato per un periodo Però so che i miei amici hanno sempre interpellato il comune per questo problema Per cui guarda come si bisogna passare Vabbè a Gimarra c'è chi sta anche peggio insomma Comunque questa era la segnalazione E adesso invece andiamo a Rosciano di Fano Dove questa mattina è stata inaugurata una nuova ala per inumazioni Al cimitero di appunto Rosciano Una inaugurazione attesa da tempo e da molti residenti Quella di stamattina al cimitero di Rosciano Sotto un cielo plumbeo a carico di pioggia Sindaco, assessore e tecnici del comune Hanno tagliato il nastro tricolore davanti al nuovo lotto Con 260 spazi per l'inumazione E due aree antistanti destinate a nuovi padiglioni Abbiamo subito provveduto investendo risorse importanti E dando delle risposte A cominciare dal cimitero di Rosciano Dove si stanno realizzando ulteriori loculi Questo campo di inumazione Ma anche in altri cimiteri E allora ecco Questo penso sia una bella risposta Una dimostrazione che stiamo facendo tante cose Per dare le risposte che la gente aspettava da tempo Ad opere ultimati il costo di questo intervento Si agirerà intorno ai 300 mila euro E oltre allo spazio destinato alle inumazioni Si renderanno disponibili 180 loculi E 50 unità tra ossari e urne cinerarie Per uno dei cimiteri Che più di altri risponde alle esigenze urgenti della comunità E rappresenta un punto di partenza Per altri interventi su tutti gli altri siti In relazione anche al nuovo impianto di cremazione Del cimitero dell'Ulivo Il secondo in regione Divenuto operativo il 25 gennaio scorso Saranno disponibili 260 posti Abbiamo riservato la prima parte Entrando nel nuovo campo di inumazione Magari per futuri sviluppi In un territorio come quello di Rochan, di Bellocchi Che è in continua e forte espansione In cui la richiesta anche di queste cose è molto sentita Quindi questa prima parte sarà lasciata a future espansioni In maniera tale anche da poter costruire nuovi padiglioni loculi E certamente non è solo questo l'intervento che ci inorgoglisce Perché attualmente stanno per chiudersi i lavori Di un padiglione loculi all'interno del vecchio cimitero di Rosciano Che tra un mese e un mese e mezzo saranno finiti i lavori Sarà consegnato e potrà essere utilizzato E adesso parliamo di Carnevale Perché si svolgerà venerdì alle 17.30 Nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano La presentazione del libro Valerio Ferretti La forma e il colore Di Silvano Clapis e Raffaella Manna Che va ad inserirsi nella collana I maestri del Carnevale Ferretti, protagonista indiscusso del Carnevale di Fano Dal 1962 al 2010 Diventa così il decimo maestro carrista Dopo Fucci, Corsaletti, Pusinieri, Pacassoni, Valentini, Battistelli Radicioni, Piccinetti e Bonetti Che entra a far parte di una collana Che omaggia a chi ha dedicato la propria vita La propria arte a far diventare grande il Carnevale di Fano Durante la presentazione, dopo i saluti del Presidente Fabio Tombari La figura di Valerio Ferretti sarà tratteggiata Da Alberto Berardi, ex Presidente della Fondazione Italiana Carnevali E da Raffaella Manna Che ha curato la seconda parte del volume Quella dedicata espressamente all'attività di carrista Svolta in oltre mezzo secolo Tempo di bilanci Per la Guardia Costiera di Pesaro Che ha avuto un 2016 davvero intenso La vita in mare è sacrificio e passione Ma quando a queste si uniscono abnegazione e senso del dovere Abbiamo lo spirito Che anima gli uomini della Guardia Costiera e i militari Che solcano i mari Con ogni tempo per sorvegliare, salvare e recuperare natanti e vite umane Uomini e donne che hanno unito al loro amore per l'elemento mare La voglia di fare qualcosa per la comunità Spesso anche mettendo a repentaglio la propria incolumità Per prestare soccorso Protagonisti negli ultimi anni di gesta di grande umanità e solidarietà Immortalate anche nell'ultimo film documentario di Gianfranco Rosi Fuoco a mare, vincitore dell'Orso d'Oro lo scorso anno Ma senza andare lontano sono 100 le persone tratte in salvo Anche nei 2800 km quadrati di area di competenza Degli uomini della Guardia Costiera di Pesaro E degli uffici marittimi di Fano, Marotta e Gabice In 50 interventi importanti per un'attività nel 2016 Sempre impegnativa ed intensa Ma non è solo l'emergenza Il cuore dell'attività della Guardia Costiera E soprattutto prevenzione e sorveglianza Al rispetto delle regole per la sicurezza in mare di tutti Al termine del periodo estivo l'operazione Mare Sicuro segna 1158 controlli Dove sono stati individuati 192 furbetti del codice di navigazione E sono stati beccati anche 36 illeciti Rilevati con 21 sequestri effettuati E non da ultima l'intensa azione di tutela ambientale 1080 controlli, 8 illeciti rilevati E 25 tartarughe spiaggiate per preservare e mantenere Il più intanto possibile un bene così importante ed universale per tutti Il mare E soddisfazione per questa intensa attività svolta È stata espressa da una delegazione dell'UNUCI della provincia di Pesaro Guidata dal suo presidente il generale Guglielmo Conti Che ha fatto visita alla capitaneria di Porto Pesarese Guidata dal capitano di fregata Silvestro Girgenti Insediatosi pochi mesi fa Torniamo a Fano L'Aset Spa informa i residenti del quartiere Poderino Che sta predisponendo in questi giorni La ripresa dei lavori di bonifica della rete idrica L'inizio dei lavori è previsto per il 13 febbraio La durata è stimata di 120 giorni Con conclusione prevista il 15 giugno La bonifica interesserà i sottoservizi presenti nelle seguenti vie Le potete vedere anche voi nella grafica Che in questo momento la regia vi sta proponendo Le opere saranno realizzate per singole vie Al fine di limitare il disagio I lavori consisteranno nella sostituzione Delle vecchie condotte idriche In polietilene o acciaio Con nuove condotte in ghisa Più efficienti e resistenti Domani alle ore 21 Al Teatro della Fortuna di Fano Ci sarà la proiezione del film documento L'amore rubato sul tema della violenza sulle donne Allora perché la BCC ha voluto Questo evento così significativo? La BCC di Fano da sempre ha E desidera avere un ruolo sociale Per la città e per il territorio in cui opera E questo non solo quindi sostenendo le diverse associazioni del territorio Che operano in ambito sportivo, culturale, sociale Ma vuole proprio promuovere delle iniziative Con la collaborazione ovviamente delle realtà del territorio Per cui ha pensato che fosse molto importante Promuovere questo evento Dedicato a una vera e propria emergenza strutturale della società Che è la violenza sulle donne Quindi domani alle ore 21 Al Teatro della Fortuna di Fano Potremo proiettare in anteprima questo film L'amore rubato di Arish Braschi Tratto dall'omonimo romanzo di Dacia Maraini È un film che vede tra l'altro un cast con attori importanti Da Alessandro Preziosi, Elena Sofia Ricci, Gabriella Pessoni Quindi i nomi diciamo più conosciuti del cinema italiano e della fiction E al termine del film Pensiamo sia molto importante Anche promuovere un dibattito Che vede protagoniste le forze dell'ordine Vede protagoniste le persone che operano nel centro provinciale antiviolenza Anche il comune di Fano E lo stesso regista che ci onorerà della sua presenza Questo perché vogliamo dare delle informazioni E anche pratiche Per aiutare tutte le donne che si trovano purtroppo in difficoltà Ecco Quindi un dibattito dal taglio pratico Anche per diffondere la sensibilizzazione su questo importante problema Per poter partecipare è necessario iscriversi online Tutte le informazioni si trovano sul sito www.bccdifano.it E sempre sul sito si potrà anche accedere alla raccolta fondi Che è collegata a questa iniziativa E tra l'altro la BCC di Fano ha annunciato Che promuoverà altre iniziative di carattere sociale nel corso del 2017 La prossima sarà rivolta ai giovani E al problema della mancanza del lavoro Il 24 di marzo al Tag Hotel Verranno presentati infatti tre corsi di formazione Inglese commerciale, personal branding, capacità relazionali e autosviluppo E adesso invece parliamo di sanità Parliamo dell'ospedale Santa Croce Perché? Perché oggi potremmo dire Dopo un bel periodo di silenzio Tornate a parlare su questo argomento Sull'ospedale unico e sull'ospedale Santa Croce Renato Claudio Minardi Vice Presidente del Consiglio regionale delle Marche Che abbiamo nostro ospite qui in studio Il nostro telegiornale Buonasera Minardi Buonasera a tutti Allora dunque l'ospedale Santa Croce deve rimanere aperto E mantenere i servizi essenziali per i cittadini fanesi Il che è una notizia importante La vogliamo spiegare un attimo meglio Entriamo un po' meglio nel dettaglio E allora l'ospedale unico ormai è un dato di fatto Luca Ceriscioli, il Presidente della Regione Marche Ha tirato dritto e si farà a Muraglia Su questo ormai non si torna indietro Però la preoccupazione dei fanesi Certamente è quella che puntando sull'ospedale Ampliando l'ospedale di Muraglia E dunque è un ospedale pesarese di fatto I fanesi si sono preoccupati Perché per il loro ospedale Che fine farà l'ospedale Santa Croce? L'ospedale Santa Croce innanzitutto Deve continuare a svolgere i servizi per i cittadini Io sono estremamente convinto Del fatto che sia necessario Indispensabile un nuovo ospedale Perché è un ospedale di secondo livello È un nuovo ospedale Che se non ci fosse un ospedale di secondo livello Mancherebbero una serie di specialistiche Quindi il fatto che ci sia un ospedale di secondo livello È già una risposta importante Perché credo che la cosa più importante Che interessa i cittadini È quella di avere servizi adeguati Risposte adeguate alla domanda di sanità Alla domanda di salute Essere curati adeguatamente E nel modo più veloce possibile Ecco perché io Come avrei visto, direttore Nei mesi passati Non mi sono mai appassionato Sulla questione del sito Io sono sempre stato convinto Che bisognasse trovare una soluzione Anche per accelerare il percorso Della costruzione del nuovo ospedale Che ripeto è nell'interesse di tutta la comunità Non mi sono mai appassionato sul sito Insomma c'è stata questa battaglia Forso Signore, Chiaruccia, Muraglia Eccetera eccetera Io ho sempre detto che Troviamo una soluzione Troviamo una soluzione concertata Fra le parti In particolare fra le due comunità Fra i due sindici Ho lavorato per questo Purtroppo non c'è stata possibilità Di far trovare un accordo E alla fine Con l'algoritmo Era uscito il sito di Forso Signore Io non nascondo che Alla fine il sito di Forso Signore Lo sanno tutti L'ho sempre considerato Come una mediazione possibile Una mediazione accettabile So bene che era un sito delicato Dal punto di vista ambientale Ma un ospedale è un'opera pubblica Un'opera pubblica per eccellenza Non si andavano a costruire I grattacieli a Forso Signore Lo consideravo una soluzione accettabile Perché è a metà strada Perché sarebbe stato costruito Sul confine Non ci sarebbero stati Ne vinti ne vincitori In questa pseudo battaglia Fra la città di Fano e la città di Pesaro Però questo non è stato Però avrebbe scontentato in tanti Avrebbe scontentato in tanti Sicuramente sì Il sito è privato Io avevo anche suggerito Al sindaco di andare All'assemblea di Area Vasta Con un accordo Quindi non andare Alla roulette dell'algoritmo Che poi si è tradotta Prima in Forso Signore E poi c'è stata E certo Se ci fosse trovata una soluzione politica Sarebbe stato meglio Piuttosto che affidarla ad un computer O a dei dati dell'algoritmo E io ho lavorato per questo Chi mi conosce sa che sono Torniamo un attimo però Presidente Un attimo solo sulla questione Del Santa Croce Perché è su questo Che io vorrei un attimo Rassicurare un po' i cittadini E i telespettatori di Fano TV Allora il Santa Croce Quali sono questi servizi essenziali Che dovrebbero E sul quale immagino Lei si batterà Perché restino operativi Guardi io mi batterò Per questo Sono anche confrontato Con il sindaco Con il presidente della regione Allora l'obiettivo che Tenuto conto che l'ospedale Ormai si farà a muraglia Fano dovrà avere Delle risposte adeguate Allora la prima cosa Il pronto soccorso A Fano dovrà rimanere Un pronto soccorso Che dovrà gestire Anche il codice rosso E tutto ciò che consegue Alla emergenza Alla medicina d'urgenza Dietro un pronto soccorso Che gestisce il codice rosso Ci sono una serie di servizi E questi servizi Proprio perché A Fano ci dovrà Dovrà rimanere Un pronto soccorso Con il codice rosso Dovranno essere Rimanere al Santa Croce Ritengo un'altra cosa importante I letti I letti della medicina d'urgenza Perché quante volte Purtroppo abbiamo trovato Difficoltà a trovare spazi Nella gestione Dell'emergenza Da parte del pronto soccorso Perché magari non c'erano I posti letto nei reparti Eccetera eccetera L'osservazione lunga Chiamiamola così I posti letto d'emergenza Secondo me Dovranno essere potenziati A Fano Proprio a fianco Del pronto soccorso In modo tale che Le 48 ore Le 72 ore Che la persona Deve rimanere in osservazione Ci siano anche Gli spazi adeguati E i servizi adeguati Con medici, personale E quant'altro Quindi i posti Per la medicina d'urgenza L'altra cosa importante Credo che sia la diagnostica Perché parliamoci chiaro I cittadini Ai cittadini Che hanno bisogno Ovviamente di risposte adeguate E veloci Di qualità E veloci Quante volte nella vita Capita di andare all'ospedale Che è più fortunato Non ci va mai Che è meno fortunato Ci va magari 5, 6, 10 volte Ma invece I servizi quotidiani Di cui abbiamo bisogno Cosa sono? La diagnostica La TAC La risonanza magnetica Il laboratorio analisi I servizi Le visite specialistiche Le visite specialistiche Di qualità Ecco queste Dovranno rimanere Al Santa Croce In modo tale Che il cittadino Non debba andare All'ospedale Per avere questi tipi di servizi Che sono i servizi Di cui hai bisogno Costantemente Tutti i giorni E tutti i giorni Quotidianamente L'altro tema L'ultima cosa Che secondo me È importante Che deve essere Realizzata a Fano È l'RSA A Fano Non abbiamo Una residenza sanitaria Assistita Serve E servono Tanti posti letto Perché non solo Fano Ma anche il territorio Ha bisogno Di questo tipo di servizio E io credo Che questo tipo di servizio Debba rimanere Nella città di Fano Possibilmente Al Santa Croce Quindi il Santa Croce Dovrà continuare a vivere Dovrà continuare ad essere Un sito Che funziona Che è aperto Quindi pronto soccorso Diagnostica Tutto ciò che c'è Dietro la diagnostica di qualità E la gestione dell'emergenza E l'RSA Perché il Santa Croce Non può ovviamente Essere svuotato Quindi Nell'immaginario della gente L'ospedale per acuti Sì Va a Muraglia Ma il pronto soccorso Deve continuare A derogare I servizi quotidiani Alla comunità Allora Dopo dieci anni È stato inaugurato Un piccolo tratto Degli interquartieri Le opere compensative Della 14 Adesso stanno Rivoluzionando un po' Tutta la rete viaria Della città di Fano Però certamente Sappiamo benissimo Che per raggiungere Queste strutture sanitarie E per l'emergenza È fondamentale Che ci sia anche Una discreta viabilità Adesso il problema Delle buche Grazie al cielo L'abbiamo quasi Definitivamente risolto Nelle vie più importanti Però comunque Resta ancora Credo molto Nella città di Fano Da fare Beh io sono convinto Di una cosa Che quando si costruisce Un'opera pubblica Come un ospedale Si costruisce la struttura Ci si portano i servizi Notoriamente di fronte ad un ospedale Si fanno i parcheggi Ma se servono i parcheggi Serve anche la viabilità Per arrivare ai parcheggi Sappiamo che la viabilità Verso nord Non è così semplice Nella città di Fano È stata inaugurata Come diceva lei direttore La stade interquartieri C'è bisogno sicuramente Di migliorare La viabilità Verso nord Quindi completare Gli interquartieri O se ci sono Soluzioni alternative Benvengano Quindi io ritengo Che la Regione Debba mettere Risorse finanziarie Per migliorare La viabilità Verso nord Proprio perché Servirà per raggiungere Il nuovo ospedale E dico una cosa Su questo passaggio Che a prescindere Da dove è posizionato L'ospedale È stato scelto Muraglia Ma se fosse stato Forse Signore Ci sarebbe stato Lo stesso problema Se fosse stato Chiaruccia Il problema sarebbe stato Lo stesso perché Sarebbe servito Ai pesaresi Per venire a Chiaruccia Altre dieci anni No però No Io chiederò Che i lavori Per gli interquartieri Per il prolungamento Di interquartieri Fino a Gimarra O soluzioni alternative Tecniche Su cui non Non voglio In questo momento Entrare Facciano parte Del progetto Dell'ospedale Quindi devono andare Di pari passo Con la realizzazione Dell'ospedale Perché questo è Un lavoro serio Si fa l'ospedale Si fanno i parcheggi Si fa la viabilità Allora Chiaruccia È un punto strategico Recentemente Anche una nota azienda Importante A livello mondiale L'ha chiesto Ha chiesto Di poter insediare Di ampliare La sua attività In quell'area Però Ha ricevuto Il NET Del comune di Fano Perché quell'area Chiaruccia Deve Probabilmente Deve rimanere A una vocazione Quale vocazione? Lì cosa si potrebbe fare Per esempio? Allora Intanto Apro e chiudo Una parentesi Sulla nota azienda Un'azienda 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 che ha 850 dipendenti Che vuole investire Che ha in prospettiva La possibilità di assumere Altre 200 persone A questa azienda Bisogna trovare una soluzione Sicuro Perché ovviamente È nell'interesse Della città di Fano Non tanto dell'azienda Sicuramente dell'azienda Ma non solo Ma della città di Fano E dell'economia Della città di Fano Che porta lavoro Ovviamente con tutto il rigore Dei controlli Dal punto di vista ambientale Ecco Entro Chiudo la parentesi Su questo Chiaruccia Dovrà essere Destinata Alla realizzazione Di una clinica Privata Convenzionata Allora Nella nostra provincia Non abbiamo cliniche private Nella provincia di Ancona Ce ne sono due Ad Ascoli ce ne è una Anferno ce ne è una A Macerata ce ne è una Nella nostra provincia Non ce l'abbiamo Soffriamo di una mobilità Passiva Verso nord In particolare Verso il cosiddetto Quarto ospedale delle Marche Possiamo fare il nome Che è l'ospedale Privato di Cotignola Al quale si accede Con la ricetta rossa Quella fatta dal medico Dal medico di base Quindi una clinica Privata convenzionata Che per la nostra provincia È prevista Dovrà essere posizionata A Fano Cosicché Fano Manterrà i servizi A Santa Croce E avrà la possibilità Anche di avere Un altro ospedale Un ospedale privato Ripeto Non a pagamento Quindi i cittadini Potranno entrarci Gratuitamente Sottolineo gratuitamente Che sono servizi Convenzionati Con servizi di alto profilo Di alta qualità Che oggi andiamo a cercare Altrove E questo credo E questo credo che possa essere Un'altra bella risposta Alla sanità Della città di Fano Ma non solo Della città di Fano Del compressorio Perché una clinica privata Posizionata a Fano Potrebbe diventare attrattiva Anche per l'Umbria Perché no L'ultima domanda Gliela faccio Perché riguarda Soprattutto Gli ospedali Dell'entroterra Parliamo di Pergola Parliamo di Fossombrone Sassuocorvare Insomma Per molti mesi Hanno temuto Il peggio Che cosa Può dirci Su questi ospedali Ma su Urbino C'è un corso Un'attività di potenziamento Importante È stato inaugurato Il pronto soccorso Qualche settimana fa E credo che sia Già una prima risposta Alla sanità Dell'entroterra Perché l'ospedale Urbino Comunque verrà potenziato Dopodomani Verrà presentato A Pergola Il primario Il nuovo primario Di chirurgia Che è stato appena nominato Partirà Con il contratto Dal 16 di febbraio E quindi anche questa Credo che sia una risposta Alla sanità Delle aree interne La medicina La riabilitazione Gli interventi di oculistica Altri tipi di servizi Riparte la chirurgia Che con Il concorso Aveva avuto un blocco Con un ricorso al Tare Il ricorso al Tare È stato definito L'azienda sanitaria Ha nominato il primario Partirà Il dottor Gammarota Partirà dal 16 di febbraio Quindi riparte La chirurgia A Pergola E quindi credo che sia Una risposta importante Per quel territorio Gli altri ospedali Funzioneranno Con il punto Di primo intervento Ovvero Con Con l'ambulanza Con il medico A bordo E quando l'ambulanza Esce Comunque in ospedale Ci sarà un medico Pronto ad assistere Per cui diciamo Nel piano di riforma sanitaria Che è un piano Un piano importante Perché in parte Ci viene imposto Dal livello nazionale Credo che anche Per le aree interne Sia una risposta adeguata Perché alcuni servizi Anche in questo caso Sono convenzionati Col privato Ma la cosa più importante È che di quei servizi I cittadini Possano fruire E perché Siamo in grado Anche di fare convenzioni Con il privato Per dare risposte Più veloci E più adeguate Perché bisogna accelerare Anche i servizi Dati ai cittadini Che spesso Sono costretti Ad aspettare troppo tempo Perché la regione Marche ha i conti in ordine Soltanto con i conti in ordine Si riescono a fare queste cose Se non ci fossero i conti in ordine Ci sarebbero pesanti tagli E ovviamente Non sarebbe possibile Assumere le centinaia di persone Che vengono assunte Anche in questo territorio Sia da Marche Nord Che dall'area vasta Compresi anche i servizi Che verranno dati Negli ospedali di Sasso Corvaro Cagli e Fossomorone Grazie a Renato Claudio Minardi Vice Presidente Del Consiglio regionale Delle Marche Grazie per essere stato Nostro ospite Buonasera direttore Buonasera a tutti Il telegiornale si chiude qui Come sempre vi ricordo Il nostro numero Per le segnalazioni Che sono sempre per noi Molto importanti Grazie per averci seguito Buona serata E a domani A presto Grazie a tutti Grazie a tutti